Un ringraziamento. A tutti gli amici e amiche, che stanno ascoltando la mia web radio. Un saluto speciale ai gruppi, amici di Costa Crociera S.P.A. Pozzallo la perla del Mediterraneo. La radio del Club delle Galline. Le ricette del Club delle Galline. Da Salvatore Bagieri. Gallo Cedrone Music e Video. Del Club delle Galline. Buon ascolto. Vi prego, lasciate un mi piace, nella mia radio. Grazie a tutti.